Poteva avere un epilogo tragico quanto accaduto nel primo pomeriggio a Dornavasso al passaggio a livello teatro qualche anno fa di un altro incidente tra un autobus ed un treno. Il passaggio a livello si trova a lungo via fratelli di Dio. Oggi l'impatto intorno alle 14 e 30 è avvenuto tra un camioncino ed un treno cargo proveniente dalla Svizzera. Per cause che le autorità competenti dovranno chiarire nelle prossime ore un camioncino è rimasto incastrato al passaggio a livello. L'autista è riuscito a scendere da mettersi in salvo in tempo. Inevitabile però l'impatto tra il mezzo e il treno che pure arrivava a velocità non elevata. Ingenti danni, tanta la paura, l'urto si è udito a parecchi metri di distanza ed immediatamente sul posto sono arrivati molti curiosi insieme a forze dell'ordine e mezzi di soccorso. È il secondo incidente su questa linea ed in quel punto sottolinea il sindaco di Ornavasso Filippo Cigara Fulgosi e posto che all'origine di quello odierno sembra esserci un errore di manovra dell'autista del camioncino è chiaro che questa linea che è una delle più renditizie d'Italia merita un intervento di messa in sicurezza. Scriverò a questo proposito nei prossimi giorni RFI per chiedere la realizzazione di un sottopasso. Dopo i lavori sulla sponda del toce non c'è nemmeno più l'ostacolo legato alla possibilità di allagamento del sottopasso. Dunque credo che questa sia una soluzione non solo auspicabile ma soprattutto realizzabile.